Buongiorno FTA Online, avvio positivo questa mattina per la borsa, Futsmib in questo momento in guadagno dello 0,37%, siamo a 17.300 punti circa, con l'indice che incontrerà una forte resistenza intorno ai 17.380 punti, sopra quei livelli possibile la ricopertura del gap ribassiste di due sedute FA a 17.625, rischio di cali invece in caso di violazione di area 17.180, molto bene questa mattina sia A2A che STM, quindi andremo a guardare questi due titoli in dettaglio, per quello che riguarda A2A siamo a 1,19 Euro circa, già nella scusa di ieri si era vista una bella accelerazione rialzista con massima 1,1780 che aveva permesso la rottura della resistenza di area 1,1650, in termini di ritracciamenti di Fibonacci il titolo ha superato il 50% e in area 1,20 incontrerà il 61,8% di ritorno rispetto al ribasso dai massimi dello scorso dicembre, quindi al di superare 1,20 nuove segnali di forza che lascerebbero sperare nel ritorno sui massimi di fine 2015 a 1,3670. In termini di movimento grafico abbiamo la costruzione di questo canale crescente che contiene il rialzo dell'ultimo mese circa e vediamo che la parte alta del canale come resistenza coincide poco a di sopra di 1,20 con il ritracciamento che abbiamo citato, quindi quell'area si conferma molto importante, sarà interessante vedere come si comporteranno i prezzi al raggiungimento di quei livelli. La base del canale invece che in questo momento transita a 1,12 Euro circa è il supporto che deve essere rispettato per evitare che il titolo si produca in una correzione di tutto il rialzo delle ultime settimane con obiettivi tra 1,02 Euro e 1,04 Euro. Veniamo adesso invece a STM, questa mattina forte rialzo, quasi il 4% sarà 4,77 Euro, vediamo che nella seduta di ieri i prezzi nell'intraday hanno messo sotto pressione i minimi dell'11 febbraio a 4,53 Euro, infatti il minimo di ieri era stato toccato a 4,48 Euro, ma la chiusura a 4,59 Euro aveva riportato le quotazioni al di sopra del supporto. Il rimbalzo di questa mattina è sicuramente da seguire con attenzione anche perché, come vediamo, si è venuto a disegnare un potenziale doppio minimo sul grafico ad elementi giornalieri, una figura che è ancora lontana dal completamento, ma che potrebbe sostenere l'avvio di una fase di crescita anche duratura. Una prima resistenza è il massimo dell'inverted hammer del 23 di marzo a 5,14,50 Euro, al di sopra di quei livelli avremo la possibilità di testare la parte alta del nostro potenziale doppio minimo a 5,52 Euro, una quota al di sopra della quale verrebbe inviato, come abbiamo detto, un segnale di forza molto interessante. Il titolo del resto deve ancora prodursi in una vera e propria correzione di tutto il ribasso che c'è stato dai massimi di un anno fa circa e quindi è possibile che effettivamente dai livelli attuali si assista ad una fase di crescita che potrebbe anche essere duratura. Se le quotazioni invece dovessero fallire il superamento della prima resistenza che, come abbiamo indicato, è a 5,14,50 Euro e dovessero ritornare di sotto dei minimi di ieri, quindi livellare area 4,48 Euro, ci sarebbe il rischio di una fase di evoluzione negativa che riporterebbe le quotazioni indietro nel tempo a toccare quelli che sono stati i minimi del luglio del 2012 a 3,66 Euro o i minimi del maggio del 2012 a 3,62 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.